Musica 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 ho detto che ci sono gli altri spighi perchè è il keyhole dell'oro best e quindi ci sono gli altri spighi alla traversata ah ok run in full nel canale dove l'acqua scorre noi non ci bagniamo anche se finiamo in acqua perchè siamo completamente ignifugi idrorepellenti è quasi ipnotico grazie cari è un sole come fa esser ipnotico guarda cosa c'è dentro non cittina è trilli evviva non ci serve a niente cosa importantissimo ora vai a parlare con quella del murale smisterio te l'abbiamo sputtanato va bene il keyblade non abbiamo il te lo bianco ce l'abbiamo non lo so dobbiamo riposare un po' d'accordo a me il keyblade figo strozza ok ho avuto il fine di questo tempo oh è la storia di tua granda certo è vero siamo insieme sai cosa è divertente ho avuto ogni volta che ero ma tu ero con me all'alonga Ha ha! Divertente! Finalmente siamo insieme, Kairi! Ora, è il tempo di ritrovare. Certo! Certo! No! Non se lo ricorda, sono solo passati un minuto e cinquanta, più o meno. Tratta come sono tornati lì. Perchè è proprio lì? Ma che la persona è il logo di ritrovo. Sono da Leon. Non potevano andare nel mondo di Tazza. Così si perdevano di nuovo e stavano lì tipo dieci puntate. Ma no! E' così! E' così! E' così! Mi raccomando, muovi la bocca a tempo con quello che mi piace! Questa è un minimo sistemato. E' abbastanza giusto. Qua è fatta buona animazione. Sì! C'è questa cosa? Ha detto pixelosa! Lui è in HD, lei è pixelosa! Ma anche nel gioco, anche nel 1.25 così. Certo, mica potevano farlo in HD. Si chiama solo HD remix. E' riso anche lei. Se non posso venire, ti do il mio portafortuna. Tieni! Cocaine! Più pixeloso del pixeloso pixeloso! Ma distrutto intanto, l'ha rotto! Si infatti! Promise, promise! Promise, promise! Tanto come funzioni, scusa! Adesso lui prende la catena regale e ci attacca a quel coso lì e diventa... No, no, però quel coso lì è un Keyblade. Ma non ha senso. Eh, invece si. Si chiama... Quei cosi lì, frutti di papui... No, cosa sono? Quei cosi sono uguali a quelli di Burbest Deep. Si, è vero. Diciamo questo per un po', perchè non riesce ad attacco ma... Il trio! Il trio, il trio! Ce l'abbiamo? Si, si. Aumenta i critici. Il Keyblade dovremmo averci tutti. Si, si. E' bello questo. E' bianco, però è decente. Il Keyblade è fighissimo. No, mi piace di più l'altro. C'è un casino che questo Keyblade, lo usavo spesso. Ultimo weapon. Oli arco. Allora, chiunque vi dica che gli oriarchi servono per fare l'ultimo weapon è una bagianata. Nel due giusto. Non è vero niente. Nel due si. Quello che sarebbe per l'ultimo weapon in questo gioco sono materie oscure. E si trovano a fanculo e per farle ci vogliono le madonne. Ecco, gli oriarchi non servono a fare l'ultimo. Nel due servono gli oriarchi plus che si trovano in giro. Possiamo andare da qua? Bisogna andare alla army ship e poi bisogna tornare giù. Non l'hai salvata. Bisogna tornare giù. Ah, ok. Perchè devi tornare giù? Devi andare da sida a farci installare il gumbi. E perchè devi andare sulla gumbi? Ah, perchè così torni più velocemente. Eh si, sono di freddita la strada. Vedete per curiosità quante trascheggi abbiamo. Madonna. Ok. Hai rischiato. 21. Tanto che ci sei, metti tra gli oggetti di Sora, mettici un mega etere o qualcosa del genere. Così almeno non abbiamo uno. E dagli le pozze, tutte le pozze che abbiamo. No, ce ne abbiamo uno vuoto. Vabbè. Mettiamo ship. Ce ne abbiamo uno vuoto. No, stai fermo, fidati. Ma ce ne è uno vuoto. Ascoltami, mettiamo qua, mettiamo un elisir e anche sopra qua. E non abbiamo più questo. Meganissi. Sì, ok, ora dagli tipo merda a Paperina Pippa. No, le spammano poi. Eh lo so, ma tanto che ci frega. No, no, non ci servono. Eccolo là, si. Ien si. Tratto da che Final Fantasy? Sì. Sì. Eccolo peso. Boh. Fatto, Sindu. Grazie. E' zitto. No, ma tranquillo, lascia andare un bambino e due tizi strani a salvare il mondo. Non andare tu con Leon, eh. Tranquillo, rilassa. Guarda, nonnetto se ne sta a casa. Ma che nonnetto ci avrà 30 anni. Al massimo. Nonnetto. 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 Devo fare la gumbi, no? Ok. Sì. Facciamo una gumbi nuova che voglio di farla e ci sentiamo tra un po'. Ho fatto la nuova gumbi. Sembra fatta a caso, ma perché non si potevano cambiare i colori. C'è un bug, non riesco ad attivare lo spray. Ah, va bene così. Tocca a me, ma non ho la cuffia. Dov'è? Qua. Vai in questo paese andare. Cerchio. Ah. Eh, qua. Verso nuovi orizzonti. Dovevi guidarsi abbastanza bene. Ho messo un sacco di eroga qui. Sì, ma non posso... Non hai messo i proiettili, quelli che puoi caricare. E soltanto uno ne avevamo. Potete rimettere. E non era molto comodo, perché era quello lì che spregava un sacco di un lepingo in mente. Se ve lo metto. No! Te l'ho detto. Non mi crea problemi. Tanto la gumbi la usi solo per il viaggio, poi non la usi mai più. Ho il portale del vuoto! Dovevo prenderlo, vero? Ok. Minchia che potenza di fuoco. In realtà è a livello facile. Sono queste cose che distruggere così. Sono due tunnel. Sì, non abbiamo niente. Di materiale ci sono solo due tunnel bumi, basta. Abbiamo preso Sire. Non so cosa sia. Dobbiamo darlo di una navice. Abbiamo preso. Scusa, vedi? Tutte queste cose qua ci danno pezzi che abbiamo già. Non speedarlo! Non vedo tanto. No, che bellissimo fare questo. Non possiamo speedarlo. Dai, prova e basta. Ma non posso! Perché Frapp se lo riporta dietro a 50. Ci vediamo tra un attimo. Devi provare. Lei ha affermato che si guida bene. Gli sono andata a schiaffare. No, sei resistentissimo. Sì. Perché siamo pieni di cubetti. Di cubi che vivi dentro. Un bel po'. Quelli li abbiamo trovati. Quelli sono questi cosi qua. Ti prendi. I dispegumi? Sì, i dispegumi sono quelli che vuoi fare l'acqua. Invece... I protegumi sono quelli. Eh? I protegumi, 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 protegumi. E' un po' più. Ai. Cosa? Sono stato colpito. Guarda, ti sei curato. Per favore, vai. Quello di blu sono più facile da distruggere. Per favore. Viola, scuola. Adesso cambia colore lo scuola. Ed inferiore un altro pezzo. A me sembra uguale il colore. No, non è cambiato invece. Ok. Propegumi, propegumi. Sai che poi c'è un'altra fase con la gummi? Davvero? Certo. Dalla roba estiona là in tutto il world. Pazienza. Fire. Cioè, per farvi capire che... Un uomo che ha finito la maturità si è messo a platinare Kingdom Mars. Probabilmente da fare. Esatto. Io invece ho giocato a Binding of Isaac. Anch'io mi sono messo a giocare ieri, ho perso. Grazie, quel gioco perdi sempre. Ho perso... Anche se vinci perdi. No, ho perso perchè tipo... Ero arrivato all'utero? Uno? No. Normale, l'opposto. Solo che mi è arrivato al Curso of the Lost. Sai cos'era il Curso of the Lost? Quella che non ti fa trovare il boss. Devi esplodare tutto prima di trovare il boss. Ecco. Sono morto, capito? Perchè nell'utero fanno delle stanza abbastanza stronze. E sono morto. Non mi era capito che lo sto usando Isaac e col B6. Che io non ho. Come non ce l'hai? Devi finire il gioco con quello blu. Ah. Non ho mai completato. Ce l'ho. Ce l'ho sbloccato con il personaggio. Beh, oppure puoi fare così. Puoi prendere... Puoi giocare con qualunque. E arrivare... Di Lank. Sì. Morire e finirlo con quello blu. Non è che lo scelgo io quando trovare Lank. Se lo trovi è approfittare per fare la achievement. L'ho sbloccato tipo di left hand. Mmm. Ecco adesso andiamo a prendere chi vedo qui. Sì. Sì. Ma non ti possiamo usare. Che? Beh, in effettissimo. Mi spiace più. Non c'è niente. Che altri dati ci devono essere? Che altri dati ci devono essere? Ciò scherzando. Ah, ti volevo dire. L'altro giorno Ale è venuta a casa mia. No? Voleva giocare a Mario Party. E non avevo la senso al bar. Voi ho detto. E cazzo. Che cazzo l'hai messa? Io pensavo la guardate mi fratella invece la dietro la televisione. Io ti odio. Ti odio profondamente. C'era una scaricatura di canali. Ah, chissà, frega. Allora lì si potevano caricare. Qualcosa. Non lo so, quel carica batteria. E poi pile non ricaricabili? Te la che hai messo le pile non ricaricabili. Che me ne frega me. Non so, ci giocavo pochissimo. Buffa. Volevo giocare a Mario Party. Eravamo in quattro, in cinque, sarebbe uscita una bellissima partita. Volevi si divertirete. Volevo venire da me a giocare a Mario Party, chiamo anche gli altri. Volevo. Portiamo le pile. Due pile a testa e giochiamo. Ognuno gioca con le sue pile. E poi se le porta a casa. Dovete mandare. Alla dritto, dentro il buco. Sto da combattere. E adesso invece di andare a dritto, tu fai una cosa intelligente e vai alla libreria. Sì. Ah, e fai una cosa ancora più intelligente. Vai alla libreria. Biblioteca. Dove vuole lei? Prima di andare sulle scale. Cerca qua... Qua in giro c'è cosa. Ehm... Come si chiama questa? Questa qua. Questa qui. Qui gira, gira, gira. Non c'è? What the fuck? Dov'è? Chi? Bella? No, Bella è sopra. Sì, lo so che... Lì ci deve essere cosa con Leon? Quella lì. Io fin... No, l'altra. Eh... Sì, vabbè, ho capito. Se ci pare tre volte di da Kuraga. Ah, e magari dopo questo filmato... Oh... È già lì. Oh... Vuoi vedere che qua dovevamo prenderla quando eravamo lì e la casa del... si è perduta, non è qua. Mi sembra stanno però che non sia qui. Sei venuta a chiedere la serratura, vero? Ti prego, stai attento. Sei venuta a chiedere la nostra potere, ma non ce la facciamo più. Invecemo noi. L'avete ottenuta bene, infatti tutti i mondi sono infestati da Yart. Questa con Bell. Complimenti per l'ottimo lavoro. Tu, dammi droga. Eeeh... Rosa Divina! Rosa Divina! 10 di attacco! Mettilo! Alta potenza d'attacco! Col più chiedici è difficile allocare. E chi mette a farti del gioco? Vedi che non c'è? Che cazzata! Non so dove vai qua a Kuraga. Vedi che non c'è? Non so dove vai qua a Kuraga. Va bene il Giga, non so come si chiama. Energia, si. Non ci serve. Non ci serve! Potevo andare!